4.200 alloggi popolari da gestire in provincia di Lucca e una lista di attesa nel comune capoluogo di 650 famiglie. Questi numeri forniti da Francesco Franceschini, presidente dell'ERP, l'edilizia residenziale pubblica di Lucca, ospite della trasmissione Buongiorno Con Noi. L'ERP deve far fronte a una cresciuta domanda di alloggi agevolati e contemporaneamente deve condurre i lavori di manutenzione degli edifici. Franceschini chiede più risorse a Regione e a Governo per evitare il ricorso alle banche. Personalmente sono contrario a chiedere alle banche di darci dei finanziamenti perché è una spirale che una volta che si apre poi non si chiude più. Franceschini ha detto di aver intrapreso una dura lotta per scovare gli inquilini che non pagano l'affitto pur avendo i soldi per farlo, la cosiddetta morosità colpevole. Sui tanti casi di occupazione abusiva a Viareggio il presidente di ERP invece chiede soluzioni politiche per quelle famiglie subentrate pur senza diritto ad un parente che però hanno continuato a pagare l'affitto. Una famiglia, faccio un esempio, che è entrata nell'abitazione del padre 30 anni fa e che ha continuato a pagare sempre e magari gli viene chiesta la denuncia di tutti i fitti e per un anno magari è scoperta. Io penso che laddove esiste veramente questo caso si può trovare una soluzione. O andava colpito subito, ora dopo 20 anni voglio vedere con che coraggio la butti fuori a gente che ha pagato. Sul caso del quartiere Giardino a Lucca, pur chiarendo che le scelte spettano al comune, Franceschini ha detto di comprendere la decisione dell'amministrazione comunale di non abbattere la cosiddetta stecca per poterla trasformare in alloggi per l'emergenza abitativa. Ma proponete il problema se è giusto tirare giù o costruire laddove è possibile? Io credo che sono cambiate le esigenze di quando è iniziato anche questo progetto del quartiere Giardino. Infine i lavori in corso. Sono in fase di ultimazione nuovi alloggi a Coreglia e Torre del Lago. Ma Franceschini ha lanciato un allarme particolare per la straordinaria manutenzione del quartiere Lenci a Viareggio, dove alcuni edifici hanno problemi in particolare sulla stabilità delle scale. Grazie.